Ma allora se il problema è che la Corte Costituzionale ha riconosciuto che si deve trattare non di semplici indennizi ma di veri e propri risarcimenti, quindi noi abbiamo proprio poche risorse in quel fondo, io oggi mi sarei aspettato da lei la proposta di aumentare quel fondo e di farlo tutti insieme con una proposta trasversale o magari farlo con un decreto, uno dei tanti decreti che ci propinate. In questo caso avrebbe avuto ragione di esserci un decreto. Bene, aspetto che arrivi ancora dal Governo questa proposta altrimenti la faremo noi e questo sarebbe un modo di celebrare sabato prossimo la giornata della memoria in maniera non retorica ma pienamente sentita, vissuta e in maniera da riconciliare tutto quanto il Paese con la propria storia. Andiamo all'interrogazione numero 3935 presentata dai deputati Barelli e da altri che ha ad oggetto politiche del Governo in materia di privatizzazione di società a partecipazione pubblica. Il deputato Casasco ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confirmatario. Prego. Grazie Presidente.